Coprifuoco entro le ore 22 fino al 31 luglio, queste sono le ultime disposizioni alle quali i cremonesi dicono no, non sono assolutamente d'accordo, ma non solo i ragazzi, non solo i giovani, gli stessi commercianti che saranno i più penalizzati, ma anche gli anziani che sono le categorie più fragili. Andiamo a sentire. Cavolate, diciamo ragazzi, non vale. Se tu apri ristoranti, apri bar, almeno fino a mezzanotte ci dovrebbe essere, così non ci aiuti per niente, perché la gente va a mangiare di fretta e poi si accumulano lo stesso la gente, a prescindere dagli orari che fanno loro. Guarda il mercato al mattino, vedi già la differenza, ormai ci stanno uccidendo. Non penso che sia un metodo efficace. Lei è d'accordo o no col coprifuoco dalle 22? No, almeno fino alle 23. È una cosa inutile, cioè dovrebbero proprio toglierlo, così come dovrebbero togliere secondo me i colori e tutte queste restrizioni. Eh, a me mi dà fastidio, ma purtroppo che puoi fare? Sono già stufo, è un po' peso, diciamo, non sei più libero di fare quello che vuoi. Penso che loro mi erano a ridurre il più possibile quelli che sono gli assembramenti, non so se sia poi la strategia migliore. No, io non sono d'accordo, ma non è che non sono d'accordo, però secondo me non è che serve più di tanto. Non sono d'accordo perché comunque si creano anche degli assembramenti, piuttosto preferisco stare all'aperto nei bar, come diceva lei, o nei ristoranti, piuttosto che si creano gli assembramenti anche in casa, perché quello è inevitabile. La vedo veramente una stupidata, per non dire qualcos'altro. Cioè, allora, se vogliamo partire adesso fino alle 10 va bene, ma fino al 31 luglio io spero che loro cambieranno idea. Mi auguro di cuore, almeno fino a mezzanotte, perché entrando nella bella stagione poi ovviamente la gente esce dopo e di conseguenza, insomma, speriamo.